Buonasera, ben trovati alle TG Med Sport. Palermo che continua la preparazione in vista della sfida contro il Pescara dopo il bagno di folla di lunedì con l'allenamento aperto ai tifosi allo Stadio Barbera con 3.000 persone che hanno seguito l'allenamento della squadra di Beppe Iachini. Si continua a lavorare sempre con le condizioni di Gennaro e di Hernandez che vanno migliorando più per l'attaccante uruguaiano che potrebbe addirittura trovare posto nella lista dei convocati e addirittura in panchina. Migliorano anche le condizioni di Belotti, per il resto dovrebbe essere la formazione Tipo che ha vinto sia Castellammare che in casa nell'ultima sfida contro il Brescia e dunque ancora con Vasquez e Dybala ma soprattutto con i due esterni offensivi Lazare a sinistra e Stevanovic a destra. Proprio il centrocampista ha voluto chiarire ancora una volta quanto importante sia stato il lavoro. Se uno mi diceva magari prima che venissi qua che sono in grado a fare questo ruolo e che sono in grado a accettare tutti quegli cambiamenti che mi sono capitati non lo crederei. Però poi piano piano con il mister mi ha dato una grande mano, mi ha dato consigli importanti e diciamo che è stato bravo lui a ottenere il mio massimo, a tirare fuori le cose che magari ho dentro. Prima gara abbiamo sofferto, hanno fatto un'ottima gara loro, poi le cose magari non giravano bene e adesso le ultime 3-4 partite da quando hanno cambiato il mister cose vanno bene, sicuramente c'è lì entusiasmo e sarà una partita molto importante per loro però anche per noi. A proposito di sfida contro il Pescara vi facciamo vedere un tweet di Cersei Cosmi il nuovo allenatore del Pescara dopo la vittoria alla Spezia ha voluto un po' tranquillizzare l'ambiente ancora non abbiamo fatto nulla, ringrazio tutti i tifosi per i grandi attenzati di stima ma le partite contro Palermo e Latina saranno determinanti, ci diranno tante cose. Dunque questo il tweet dell'allenatore del Pescara, Cersei Cosmi, tra l'altro ex della sfida. Di tutto questo abbiamo parlato con Salvatore Gerardi. Un like motif che tutti gli allenatori intonano, per fortuna gli allenatori che vanno calmi e che predicano umiltà e concentrazione. Nel caso del Pescara ovviamente assume i contorni di una disperazione perché devono tornare ad essere protagonisti e quindi c'è un obbligo che il Palermo non ha nel senso che il Palermo ha l'obbligo di mantenimento, cioè il Palermo ha l'obbligo di continuare a giocare bene e di correre come sta facendo con disinvoltura. Mi pare impossibile che il Palermo non ottenga per quello che ha seminato. Mentre per quanto riguarda il Pescara è chiaro che è una situazione ultimativa ma il Palermo ci è abituato perché chi gioca contro il Palermo gioca sempre la partita della vita. Nella storia del Palermo se preteniamo le prime 29 partite Giacchini figura addirittura al terzo posto e guarda caso prima di lui non c'è assolutamente lo splendido, magnifico, insuperabile, supereroico come lo vuoi chiamare, coloratissimo Palermo di Baldini e Guidolin. È vero che Guidolin sarebbe arrivato alla venticinquesima giornata e nelle prime quattro partite ne vinse solo una e poi però ne perse in tutto due quindi insomma un grandissimo finale di stagione. Ma per dare il significato di quello che Giacchini ha fatto però ben più importante è quello che hai puntualizzato tu cioè la possibilità, la voglia, la meticolosità con cui ha lavorato ed è riuscito a cavare da alcuni giocatori delle doti insospettabili perché Stevanovic è un giocatore completamente cambiato sotto il profilo tattico e Di Bala non lo so, certo improvvisamente questo qui riprende a segnare a fare assist e per quanto riguarda Vasquez è un giocatore che non dimentichiamo avevamo portato in tribuna perché ci restasse a vita. Trapani che apre questa trentesima giornata lo fa venerdì al provinciale contro il Varese, anticipo importante anche per continuare a dare seguito ai risultati positivi lo ricorderete, ne avevano fatti 14 consecutivi, è arrivata la sconfitta interna contro il Siena poi la vittoria nel turno precedente di campionato a Latina per 1-0 con un gol di Pirrone e parla proprio il centrocampista di Boscaia Ascoltiamolo Il periodo è molto lungo, c'è bisogno di tutti, bisogna anche girare, di fiatare comunque è importante farsi trovare pronti quando veniamo chiamati in causa possiamo dire che c'è stato questo calcio d'angolo il tiro di Simone, il portiere che non trattiene la palla c'è stata una prima conclusione di Pagliarulo il portiere ancora una volta non trattiene io mi sono buttato e sono uscito a stare gol non era facile segnare, però è andata bene ormai diciamo che la salvezza è quasi dentro manca veramente pochissimo se dobbiamo dirlo adesso noi affronteremo ogni partita sempre con l'intenzione di vincere e poi quello che viene fuori ci prendiamo perché alla fine non abbiamo più niente da perdere A chi dedica il gol? Allora voglio dedicarle alla mia famiglia quindi a mia moglie e a mia figlia venerdì giochiamo e quindi ci sono anche più squalificati però come abbiamo sempre fatto chi scenderà al posto di chi ha giocato oggi saprà dare il suo contributo Andiamo su trmweb.it nella sezione sport ritroviamo tutti gli approfondimenti delle notizie date sul Catania sul Trapani e sul Palermo con l'intervista a Stevanovic ma anche l'intervista al difensore delle Trapani Ferri con il Varese gara importante continua il momento negativo anche del Catania anche fuori dal campo con le parole del Presidente Antonino Bulvirenti che ha querelato alcuni organi di stampa per degli articoli diffamatori che sono stati pubblicati nelle giornate scorse invece ne parliamo di pallannuoto lo facciamo con una bella notizia perché sono in quattro i convocati in nazionale per l'Under 15 dell'Anteria Telimar un raduno con gli azzurrini questo è lo stage che è organizzato dalla Federazione dunque grande soddisfazione per la squadra giovanile allenata da Vittorio Schimmenti che sta dominando il campionato regionale proiettata tra l'altro verso le semifinali nazionali dunque buona notizia per lo sport palermitano con quattro pallannutisti dell'Anteria in nazionale vi ricordo che tutte le edizioni le potrete rivedere sul sito trmweb.it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti